Mosca il tesoro offshore degli oligarchi russi ha eguagliato la ricchezza finanziaria delle famiglie russe, a rivelarlo un elaborato studio firmato da Thomas Pichetti insieme al suo collega alla Scuola di Economia di Parigi Philip Novok Metea Gabriel Zuckman dell'Universite di Berkeley. Secondo il rapporto diffuso questo mese dal Centro di Studi Americano National Bureau of Economic Research, N. Bayer, i capitali degli oligarchi russi trasferiti all'estero, dal Regno Unito alla Svizzera e Cipro, equivarrebbero oramai a tre volte le riserve nette in valuta estera. Lo studio intitolato From Soviet to Oligarchs, Inequality and Property in Russia, 1905-2016 esamina la transizione dal comunismo all'economia di mercato. A partire dal crollo dell'URSS, argomenta lo studio, la disuguaglianza in Russia è aumentata a livelli estremi in maniera P significativa rispetto alle altre ex repubbliche sovietiche o alla Cina. In particolare, dal 1999 a oggi, la fuga di capitali sarebbe aumentata fino a raggiungere il 75% del reddito nazionale o l'equivalente del totale delle attivite finanziarie delle famiglie russe. La ricchezza finanziaria posseduta dai ricchi russi all'estero, in Gran Bretagna, Svizzera, Cipro e simili centri offshore, pari a quella dell'intera popolazione in Russia, conclude il rapporto, con l'1% della popolazione che detiene il 25% della ricchezza. La Russia dunque tra i paesi più diseguali al mondo. Lo studio non stato esente da critiche. Secondo il commentatore di Forbes, Tim Worstall e l'analista di Bloomberg Leonid Bershidski, parte dei dati utilizzati sarebbero inaffidabili, come le fittizie statistiche diffuse ai tempi dell'economia pianificata o i parziali redditi dichiarati negli anni 90. Il limite principale starebbe poi nello stimare solo in termini valutari la disuguaglianza negli anni sovietici. Le conclusioni relative agli anni recenti sono, tuttavia, alquanto realistiche. Lo stesso Sergei Glaziev, consigliere economico del presidente Vladimir Putin, aveva recentemente stimato la ricchezza offshore intorno a mille miliardi di dollari, il che equivarrebbe al 78% del rendimento economico, in linea con le stime di Piketty, Novokmet e Zuckman.